Il primo trimestre si è concluso positivamente per i mercati finanziari, con l'indice standard EAMP, PUR 500 che ha oltrepassato per la prima volta nella sua storia 4.000 punti con una crescita del 6%. Sul fronte dei tassi di interesse e delle aspettative di inflazione i movimenti sono stati molto violenti. I rendimenti del bond decennale statunitense sono passati dallo 0,9% di inizio anno o l'1,75% a fine marzo grazie all'accelerazione della crescita di 7 punti del PIL nel corso del 2021. Si tratta di una crescita record. Il pacchetto fiscale da 1.900 miliardi di dollari ha certamente aiutato ma fondamentale per l'economia è stata la campagna vaccinale. Gli Stati Uniti, infatti, con 3 milioni di vaccini somministrati giornalmente, riusciranno a coprire il 75% della popolazione adulta entro maggio. Marco Pier Simoni, Senior Portfolio Manager di PicTem Italia nel breve termine, crediamo che la parte più violenta di aggiustamento sia avvenuta. Soprattutto sui tassi reali, quindi al netto dell'inflazione, il movimento è stato molto forte ed equivalente a due terzi di quello osservato durante il taper tantrum del 2013. I tassi reali a lungo termine sono vicini ai valori che la Fed ritiene essere quelli di equilibrio, ossia zero. Episodi del genere si ripeteranno nel futuro, in quanto la Federal Reserve si dimostrerà a condiscendere rispetto a temporanei sforamenti dell'obiettivo di inflazione, anche perché ci sono ancora 10 milioni di posti di lavoro da recuperare prima di tornare ai livelli pre-crisi. Su questo la Fed è disposta a sopportare il minore dei due danni, meglio un po' di inflazione in più piuttosto che un recupero incompleto dei danni economici causati dal Covid-19. Tuttavia, l'argomento preferito dei mercati sarà l'exit strategi della Fed e chi sarà il compratore marginale dei titoli del tesoro. Un nuovo test per la banca centrale statunitense potrebbe arrivare a inizio estate. L'effetto base della primavera 2020 comporterà inflazione nei prossimi mesi intorno al 3%. Quando questo effetto svanirà, la Fed potrebbe iniziare a ventilare un cambiamento nella propria politica degli acquisti, attualmente ancora impostata su acquisti mensili di 120 miliardi di dollari al mese. Anche se tale cambio sarà comunicato con ampio anticipo questo fenomeno genererà nuove turbulenze. In Europa, nonostante il grandissimo ritardo e il caos comunicativo della campagna vaccinale, gli attivi azionari hanno funzionato bene in questo primo scorcio del 2021. Purse la ripresa macroeconomica dell'eurozona è in ritardo di almeno due trimestri rispetto agli Stati Uniti, gli investitori hanno guardato oltre le difficoltà temporanee perché riconoscono l'efficacia dei vaccini. Il movimento di risalita dei tassi di interesse in Europa è stato molto più limitato rispetto agli Stati Uniti poiché le aspettative di inflazione sono sensibilmente al di sotto dell'obiettivo della Banca Centrale Europea. Infine, il mondo emergente ha faticato con tassi in rialzo e dollaro forte. Anche in questo caso, la memoria va al 2013 con la grande differenza che le economie emergenti sono molto più solide e presentano equilibri finanziari migliori rispetto ad allora. Il presente materiale di marketing è emesso da PICT e Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.picte, o in forma cartacea presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. 6B, Rue du Fort-Niedergrenoude, L2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni di investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict.è nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S. A. A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.